ciao a tutti oggi parliamo di come allestire la piattaforma anche da un punto di vista estetico l'estetica dell'e-learning intanto cominciamo col dire che questo brutto termine fad formazione a distanza dovrebbe essere accantonato perché formazione a distanza è un termine particolarmente istituzionale distante indica proprio la distanza con la quale noi ci occupiamo di questo problema invece lo sostituiamo con un'altra parola molto più accattivante molto più significativa che è ambiente non fad ma ambiente ambiente per insegnare per insegnare anche a distanza ma un ambiente che cosa vuol dire questo beh vuol dire che per esempio la prima questione che non siamo qui solo per comunicare per trasmettere delle comunicazioni la che cos'è la comunicazione una trasmissione di compiti è una trasmissione di indicazioni che gli studenti recepiscono da parte dell'insegnante e poi a loro volta gli studenti comunicano a noi ci danno delle consegne ecco già noi ci troviamo a lavorare a distanza quindi non c'è il calore del corpo non c'è la percezione dell'umanità con la quale invece siamo immersi nell'edificio scolastico quando ci vediamo incontriamo i nostri studenti dunque perché rendere ancora più asettica questa distanza pensando che la piattaforma sulla quale lavoriamo il metodo lo strumento che avete scelto che abbiamo scelto per lavorare alla fine è solo qualche cosa che determina il tipo di comunicazione che avviene all'interno tra studenti e insegnanti e normalmente appunto per trasmettere dei compiti ecco se noi costruiamo un ambiente che è caratterizzato solo da questo cioè dal passaggio di comunicazioni formali noi allontaniamo gli studenti perché la didattica a distanza ha un problema fondamentale e il problema fondamentale è la libertà dello studente che è privo della costrizione di essere all'interno di un edificio scolastico secondo una scansione oraria d'altra parte il learning si fonda proprio su questo aspetto cioè sulla possibilità da parte del discente di utilizzare il suo tempo come meglio crede e anche di muoversi certo noi oggi siamo in una situazione di emergenza che ci vede chiusi nelle nostre case ma fondamentalmente il learning è uno strumento di apprendimento in mobilità si possono ascoltare e guardare le lezioni mentre si fa altro si può studiare mentre ci si occupa anche di un'altra cosa salvo poi rispettare ovviamente gli appuntamenti istituzionali quindi per definizione il rapporto tra l'insegnante e lo studente è qualche cosa che tende come dire a scemare a cambiare in una situazione di distanza e ho già detto in qualche webinar fa che lo studente si sente come dire anche liberato dalle costrizioni che vive ogni giorno quindi noi dobbiamo proprio cambiare atteggiamento nei confronti della costruzione di una piattaforma allora non comunicare ma raccontare il racconto prevede una partecipazione un'affettività prevede l'inserimento all'interno di una comunità che è quella narrante una comunità di narratori di persone che raccontano cioè che portano le proprie esperienze ma per fare questo noi dobbiamo invitare e dobbiamo accogliere i nostri studenti quindi dobbiamo mettere un po da parte i formalismi dobbiamo mescolare varie tipologie di approccio anche quelle informali le dobbiamo integrare all'interno della nostra struttura questo significa allestire la piattaforma perché il nostro scopo è condurre a scuola ovviamente ma dov'è la scuola beh la scuola è nel nostro ambiente e qua lo chiamiamo appunto ambiente condurre lo studente a scuola dunque non comunicare raccontare accogliere invitare allestire stiamo parlando di una estetica dell'e-learning e oggi guardate che la forma è più importante del contenuto i contenuti si trovano il modo con cui si presentano beh questo fa davvero la differenza allora dobbiamo parlare di che cosa di organizzazione di un ambiente ma che cosa vuol dire organizzare un ambiente beh prima di tutto non tutte le piattaforme consentono di organizzare l'ambiente come voi desiderate cioè chi lo consente di più chi lo consente di meno a me piacciono molto piattaforme come moodle nelle quali nelle quali si può intervenire possono intervenire anche dei programmatori per modificare l'ambiente renderlo più adatto allo scopo altre si prestano un po meno altre non si prestano per niente perché presentano già un ambiente strutturato quindi bisogna fare molta attenzione certo le scelte che determinano poi il prendere una piattaforma piuttosto che un'altra sono le più diverse io qui però vi presento un aspetto generale che è questo la piattaforma deve comprendere una serie di stanze di ambiente se noi abbiamo un ambiente abbiamo dei luoghi questi luoghi devono esistere per esempio deve esistere un luogo per gli incontri che abbiato non abbiate la possibilità di svolgere degli incontri video ma ci sono degli incontri che si possono condurre anche attraverso una chat per esempio ma deve esserci una stanza di incontri deve esserci una stanza un ambiente per le lezioni deve esserci un deposito un luogo dove gli studenti depositano consegnano i loro prodotti i loro materiali e questo non deve essere disperso in una in una varietà di di mail di sistemi cloud di tutti i tipi deve essere concentrato perché è lì che lo studente si deve recare per di nuovo incontrarci di incontrare l'ambiente nel quale operiamo tutti e poi deve esserci un luogo per il ritiro cioè una volta che l'insegnante ha corretto ha valutato ha prodotto delle osservazioni lo studente deve poter ritirare quindi deve esserci uno spazio apposito per questo e che dire di una biblioteca voi non consegnate delle dispense delle risorse dei materiali perché non inserirli in una biblioteca non scrivere bene di che cosa si tratta nominarli bene in modo tale che siano riconoscibili ordinarli alfabeticamente per esempio per categorie letteratura non so fisica chimica e così via deve esserci un forum un forum per discutere ma per discutere non solo di questioni culturali pregnanti didattiche ma anche per sentire delle opinioni anche tra virgolette per cazzeggiare meglio cazzeggiare in questo ambiente che altrove meglio portare gli studenti qui nell'ambiente affinché possano anche trascorrere qualche momento simpatico e non solo per studiare rompiamo la logica attraverso la quale scuola istituzione seria dove si fanno cose serie e casa luogo dove invece si sta in camera propria e si conversa con gli amici si gioca eccetera cerchiamo di mescolare un po le due cose naturalmente sorvegliando che lo scopo e i valori di quello che facciamo non vengano meno naturalmente quindi certamente forum di diverso che che abbiano diversi contenuti argomenti di discussione le verifiche le verifiche naturalmente che devono essere fatte quindi il luogo dove faremo queste verifiche che può anche essere il luogo degli incontri perché alcune verifiche potrebbero essere fatte in presenza di fronte a tutti all'interno per esempio di un incontro video giochi un posto dove poter giocare dove poter svolgere magari giochi didattici allora in questo caso avremo un sistema più o meno che potrebbe avvicinarsi a qualche cosa che ha a che fare con la gamification eccetera ma diciamo anche giochi anche puramente semplicemente dei giochi perché non dare delle indicazioni su questo piano applicazioni perché non lasciare che gli studenti si scambino queste possibilità il programma il programma deve essere chiaro quello che faremo quello che abbiamo fatto deve esserci un luogo preciso all'interno del quale noi troviamo questo programma ma il sostegno molto importante il sostegno che corre in aiuto non solo dello studente di riferimento degli studenti di riferimento ma è un punto di riferimento importante nella classe dunque lo deve essere anche all'interno dell'ambiente deve avere una sua struttura ma tutto questo non può essere organizzato attraverso dei post ragazzi vi segnalo questo domani abbiamo questa lezione dopo domani quell'altra in una confusione di messaggi che vengono che si accavallano che si sovrappongono che spariscono che finiscono in fondo una lista devono essere riportati in cima perché ritornano di attualità no questo fa parte dello stream del diciamo del flusso della comunicazione va bene ma poi dobbiamo entrare tutti all'interno di questo ambiente e allora vediamo come questo ambiente può essere organizzato eccolo qua possiamo avere per esempio un cineforum per sollecitare gli studenti a vedere determinati film per farsi una cultura non solo parlo di cinema agganciato a nostri argomenti come se fosse una risorsa specifica quindi in questo caso abbiamo un cineforum un forum di discussione una stanza degli incontri all'interno della quale c'è un regolamento c'è il deposito famoso il ritiro pacchi di cui abbiamo parlato prima il sostegno sostegno supporto rinforzo che presenta dei materiali specifici è un luogo dove il ragazzo può trovare veramente un supporto per il suo percorso poi andiamo agli argomenti quindi compiti le verifiche in questo caso di letteratura possono essere chiaramente dal latino a qualsiasi altra disciplina e poi letteratura biblioteche e lezioni quindi abbiamo il programma che sarà svolto la dispensa i romanzi racconti da scaricare e così via ecco la struttura di una piattaforma deve nei limiti della piattaforma stessa tendere ad avvicinarsi proprio alla costruzione di questo ambiente vediamo allora questo ambiente dal punto di vista dello studente dal punto di vista del docente cominciamo dal punto di vista del docente abbiamo un cineforum vedete questo cineforum propone per la domenica e per il sabato la visione di un film non è un obbligatorio però chi l'ha visto poi si può incontrare all'interno di un forum di discussione piuttosto che della stanza degli incontri per parlarne per discutere ci si può scambiare due righe può anche non avvenire con tutta la classe non importa all'interno della classe abbiamo dei gusti noi ci mettiamo in contatto con alcuni studenti con altri magari no ma con altri ci metteremo in contatto per un altro verso dobbiamo trovare il modo di stabilire questi contatti non è sempre così facile specialmente a distanza a volte sono entusiasti a volte sono più diffidenti sono tutte opportunità che offriamo loro di stabilire un contatto di entrare in questo ambiente e riagganciarsi alla scuola questo vale anche per il forum di discussione quindi discutiamo di questo argomento e questo forum come è stato creato nella fattispecie dato che ci troviamo all'interno di classroom beh è stato creato semplicemente utilizzando la funzione materiale perché anche la funzione materiale ha la possibilità di inserire dei commenti se passiamo dalla parte dello studente lo vediamo facilmente ecco qua la visualizzazione del materiale ci porta a poter scrivere per esempio dei commenti quindi qui è un altro un'altra tipologia di forum che è stata creata attraverso la funzione domanda in questo caso ma vedete io sto parlando di questa piattaforma poi ci sono altri insegnanti che utilizzano altri sistemi e quello che a me interessa focalizzare è proprio l'allestimento dei vari ambiti qui all'interno proviamo a vedere come funziona dal punto di vista dello studente qui si apre visualizza la domanda naturalmente qui da una risposta ma può anche commentare qui come se fosse un classico forum e può visualizzare le risposte dei compagni di classe abbiamo dato anche la possibilità di poter vedere le risposte dei compagni e quindi avviare una discussione dunque se fossimo in un'altra piattaforma per esempio come Moodle avremmo dei forum specifici organizzati in un certo modo non ha importanza cioè quello che è importante è trovare degli escamotage per portare avanti questo tipo di relazione con gli studenti non importa che le discussioni siano frequentate assiduamente che ci sia una grande partecipazione quello che importa è che tutti trovino il loro momento all'interno di questo ambiente che alla fine il risultato sia che globalmente tutti vi partecipano vi prendono parte perché abbiamo allestito diverse possibilità e quindi anche la stanza degli incontri prima di tutto ci vuole un regolamento scrivete il vostro regolamento che gli studenti lo leggano sappiano che cosa fare il regolamento comprende le grandi cose come ci si comporta ma comprende anche le piccole per esempio come si scrive il nome di un file non vi è mai capitato di ricevere dei nomi di file incredibili non sapete chi ve li ha mandati dovete poi mettere insieme a tanti altri non ci capite più niente eccetera ecco il regolamento serve a fare in modo che ci sia un po' di civiltà qui dentro insomma che si risparmi il lavoro il lavoro dell'insegnante ma anche quello dello studente il regolamento serve anche a capire in che modo possiamo perdere meno tempo essere più efficaci e strutturare meglio una relazione che ripeto a distanza è più complicata che in presenza poi qui entrate nella stanza degli incontri si possono fare dei video incontri videoconferenze eccetera questo l'ho spiegato anche in un'altra lezione di questo genere così come ho spiegato anche il deposito dove si possono gli studenti possono inserire aggiungere i file documenti che devono inviarci proseguendo sempre all'interno della stanza degli incontri abbiamo un'altra funzione che è quella del ritiro pacchi cioè noi consegniamo qui all'interno consegniamo i documenti materiali non è altro che una cartella una cartella condivisa però un luogo unico e quindi ecco che gli scambi avvengono qui dentro scambi materiali o fisici ed è bene che non ci sia una dispersione dei modi attraverso i quali si depongono si ritirano i materiali e i documenti il sostegno ne abbiamo parlato prima supporto rinforzo ecco che ci sono delle schede per tutti alcune specifiche questo vedete che è un ambiente creato per due classi in una si insegna in due si insegna letteratura ma solo in una si insegna storia però si sono messi tutti insieme questi allievi trattandosi per esempio in questo caso di due quinte letteratura poi abbiamo una disciplina benissimo abbiamo i compiti e le verifiche ordinati secondo una progressione quindi questa deve essere portata qua è una scadenza eccola qua in modo che gli studenti vedano subito che cosa devono fare quali sono le scadenze cioè una sorta di programma vediamo dal punto di vista dello studente come si presenta si presenta così vedete compiti assegnati questo studente in particolare ne ha meno di compiti assegnati invece uno studente classico potrebbe averli tutti assegnati perché poi i compiti possono variare evidentemente li possiamo possiamo stabilire anche dei compiti particolari per dei ragazzi o per dei gruppi poi abbiamo la biblioteca e cosa c'è nella biblioteca beh nella biblioteca ci sono il programma prima di tutto quello che abbiamo fatto dobbiamo fare poi ci sono le dispense quelle che utilizziamo per esempio potremmo avere la scritta noi benissimo abbiamo messo in forma ed è qua la dispensa oppure altri documenti materiali in questo caso si tratta di letteratura ci saranno romanzi racconti da scaricare recitazioni di poesie quindi con dei collegamenti appunto a queste recitazioni pagine di test per esempio test a mano a mano che vengono fatti possono essere raccolti e quindi anche per essere poi riutilizzati come ripasso e le video lezioni eccole qua le video lezioni perché non abbiamo creato un argomento per ogni video lezione ma perché poi si appesantisce tutto quindi è anche bene inserire all'interno di una sezione più materiali omogenei poi basta andare a vedere le lezioni che sono state fatte i ragazzi le riascoltano eccetera poi qui cambia la materia questa materia qua ha meno diciamo materiali e quindi magari richiede una minore organizzazione quindi può essere ridotta a un solo ambiente però ecco non ci troviamo proprio all'interno di una strutturazione che ha nei limiti ripeto nei limiti di quello che ci viene offerto perché non possiamo aggiungere icone cambiare i colori creare dei corsi particolarmente accattivanti disegnare e crearci una un ambiente più personalizzato ecco ripeto alle volte si può fare le volte no certe volte si può fare ma richiede molto lavoro quindi non si fa le varianti sono tante ma ciò non ci impedisce appunto di cercare una strutturazione di questo genere quindi ecco che in sostanza noi abbiamo affrontato questo argomento che naturalmente deve essere poi adattato alle vostre circostanze alle vostre necessità ma anche soprattutto al vostro gusto alla vostra sensibilità al vostro stile mettete in campo uno stile se voi mettete in campo un vostro stile l'insegnante sarà riconoscibile se l'insegnante è riconoscibile gli studenti sono attratti perché in fin dei conti anche loro sono alla ricerca di una propria espressione se noi liberiamo la nostra favoriamo la liberazione della loro noi siamo un esempio per i ragazzi e quindi giochiamo questa carta che è importante non perdiamo questa occasione di rappresentare qualche cosa per loro e di fargli capire che qui dentro c'è dell'affettività perché sono ore mettere a posto tutto questo materiale sistemarlo eccetera è un lavoro è un grosso lavoro un grosso impegno ma i ragazzi non sono mica cretini loro capiscono quando c'è un impegno c'è un lavoro che diciamo non sarebbe neanche così strettamente necessario da un punto di vista della dinamica professionale e quindi si possono interrogare ma per quale motivo il mio docente fa tutto questo beh lo faccio tutto questo perché ti voglio accogliere ti voglio accogliere dentro quest'ambiente dove dobbiamo vivere convivere io e te per un certo periodo di tempo e quindi è bene che insomma ci pensiamo a questa organizzazione forse l'argomento vi sarà sembrato un po sui generis ma io penso che sia importante guardate io penso che sia più importante questo argomento di tanti altri tecnicismi su come si fanno certe cose si presentano altre l'ultima questione ultimissima che voglio sollevare questo io però vi ho presentato una tipologia e questa tipologia è basata su stanze lo vedete ma noi potremmo anche organizzarla per moduli cioè anziché avere stanze agli incontri sostegno supporto compiti e verifiche eccetera noi potremmo avere dei contenuti che ne so romanticismo decadentismo eccetera quindi poi gli autori poi i compiti e così via perché non ho fatto così cioè perché non ho seguito quella che invece è una programmazione perché ovviamente quando programmi contenuti devo per forza tenermi a degli argomenti ma perché secondo me un conto è uno strumento che si usa per sé come per esempio una programmazione che può essere di tipo modulare e un altro conto è come questa programmazione viene rappresentata all'esterno e la rappresentazione secondo me non può essere uguale al diciamo non può avere la stessa forma della vostra produttività con la quale l'avete creata deve essere deve trasformarsi in qualche cosa di diverso e qualche cosa di diverso secondo me è questo ma ovviamente se voi preferite una strutturazione attraverso moduli bene io vi dico attenzione a che non diventi una cosa troppo rigida d'altra parte rendetevi conto la scuola nella scuola c'è il bar nella scuola ci sono gli intervalli nella scuola entri in classe i ragazzi stanno parlando stanno facendo delle cose cioè questi aspetti di formale e informale esistono all'interno della scuola perché non devono esistere in una strutturazione a distanza ecco questa è la questione e basta vi lascio perché penso di avere detto fin troppo e quindi vi dirò che su altri temi e altri interventi ci vediamo nelle prossime occasioni ciao a tutti ciao a tutti